ciao a tutti ciao a tutti amici non sportivi cari aspettatori cari ascoltatori e soprattutto non più sportivi speriamo di no speriamo che lo rimaniate sportivi anche se questo è il non sportivo il podcast dedicato alle simulazioni da tavolo e non solo degli sport e oggi simuliamo la terza giornata nfl 2020 ricorda tutti quelli che vogliono vederci e seguirci in diretta e soprattutto che vogliono partecipare ai nostri fantasy sport e alle nostre simulazioni ed è arrivato flavio grazie flavio per essere qui con noi anche stasera bene ricordiamo tutti quelli che vogliono vivere con noi lo sport nella nostra simulazione da tavolo o col nostro fantasy che possono venire sul gruppo facebook casus belli sport games non costa niente più siamo più ci divertiamo e possiamo anche sottolineare che la scorsa settimana il gruppo facebook casus belli anche pareto col suo fantacalcio un fantacalcio mantra fatta in otto al draft all'americana abbiamo unito un po le nostre passioni perché a sorteggiare 28 giocatori a testa con l'asta avremmo fatto due giorni e siamo partiti eviteremo aggiornati se vi interessa anche su quello ma comunque più che su questi podcast venite sul gruppo facebook e venite a giocare con noi e salutiamo anche andrew sitkov che è l'autore della nostra sigla e andiamo subito a giocarci la nostra terza giornata c'è scritto fanta mantra per telefono scrive flavio che sono dei protagonisti infatti della nostra serata e che mi ha anche tirato una serie di pappine in questa giornata che mi ha è probabile che mi abbia sconfitto anche per quando uno lascia caputo in panchina che fa due gol e anche se lo merita pure dimmi dario vorrei dire una cosa che ho sentito su youtube da molti video di non riesce a dire molto bene lo scoprete solo più avanti forse al super bowl daio ce la dirà comunque sia cosa facciamo oggi vai daio dillo iscrivetevi al canale iscrivetevi lasciate un mi piace e lasciate anche la campanina daio ha assolutamente ragione ricordo che tutte le porte passate sono su youtube cercate marco mengoli poi mi trovate anche tutte le porte più recenti su spreaker su google podcast su spotify su tutti i principali distributori di podcast e quindi mi raccomando diffondete il verbo se vi piace stare qua con noi ma tanto abbiamo solo flavio che ci ascolta quindi il non sportivo è giusto una trasmissione di supporto non lo so comunque ringraziamo flavio che è qui con noi cosa facciamo oggi simuliamo la terza giornata dell'nfl fantasy replica casus belli che è sempre il nostro gruppo di riferimento da cui nasciamo attraverso il gioco solitaire pro football alcune partite vengono simulate direttamente dai giocatori e ne parleremo man mano che ci arriviamo altre le simuliamo direttamente attraverso il sistema di risultato veloce che il gioco comunque propone solitaire pro football di michael keeley quindi andiamo ad aprire la nostra terza giornata storica del 2020 che si apriva il giovedì sera 24 settembre siamo quasi in pari con dolphins che andavano ospiti dei jaguars andiamo a vedere subito dario con i due dadi del sistema veloce per vedere come è finita la partita prego dario perfetto quindi partiamo sempre con mayemi all'attacco che segna 13 punti valgo per tre per stasta ci dice flavio beh insomma dai ho conosciuto di peggio comunque sia mayemi che è grosso che vale per tre perché è più grosso 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 non è così grosso comunque lo dico ai nostri ascoltatori andate a trovarlo al negozio che non mi ricordo mai il nome ma adesso flavio ce lo dirà vediamo adesso ci sono andato io ogni tanto te non ci vai perché sennò poi spendi troppi soldi andiamo con jacksonville vediamo l'attacco cosa fa vai e anche di un un average proprio la partita delle medie primo tempo mayemi 13 jacksonville 7 andiamo a vedere la difesa di jacksonville come si comporta contro mayemi una media quindi difesa che da altri 18 punti e penso che potremmo già tirare giù la seranda su questa partita mayemi è a 31 vediamo jacksonville vai con i due vediamo la difesa di mayemi che è fortissima quindi cosa vogliamo fare contro jacksonville beh concede qualcosa più della media ma concede comunque solo 10 punti e quindi abbiamo 31 a 17 wild sheep games via santorio 31 roma molto bene dove trovate di tutto soprattutto war game e anche giochi da tavolo vicino all'eo videogiochi no non mi sembra se andate con la maglia di cowboys flavio non vi serve e vabbè anche flavio vabbè tifoso redskins esce da una bella vittoria di giovedì scorso contro i giants al cardiopalma e quindi dai insomma siamo siamo gentili anche con questi non lo so non servire quelli che entrano con la maglietta degli eagles però mi raccomando quindi mayemi jackson vi finisce 31 a 17 che se non sbaglio è finita 31 a 13 quella storica alla fine pur avendo una simulazione molto veloce con i dadi vediamo che questi che queste che questo appunto sul sistema non è così distante dalla realtà a volte passiamo a chicago devo anche aprire scusatemi scusatemi sono indietrissimo devo anche aprire e aggiornare le nostre è esatto le nostre i nostri valori quindi mayemi con una vittoria va due vinte una persa jacksonville 0 3 tank for trevor e non c'è niente da dire ma ci sono un po di altre squadre che stanno lottando per avere trevor lawrence in questa grandissima gara di ciapano dimmi dario dopo inizieremo dopo inizieremo i playoff fra le squadre migliori andiamo con questo chicago birds che vanno ospiti degli atlanta falcons vediamo come sempre ecco qua sono numeri estremi quindi saranno successe cose strane infatti l'attacco dei abbiamo detto che facciamo prima l'attacco di quelli che giocano fuori caso se abbiamo fatto mayemi quindi facciamo chicago già un attacco abbastanza inquietante e infatti chicago mi parte con un meno uno addirittura sul punteggio non vi preoccupate che dopo lo sistemiamo ma comunque sia abbiamo estremizzato abbiamo estremizzato la situazione meno uno a vediamo l'attacco di atlanta invece guidato la matt ryan come si comporta vai dario tira 2 rosa 4 grigio avvore di più 1 partiamo con un 14 a meno uno per quanto riguarda gli atlanta falcons andiamo a vedere adesso la difesa di chicago quanto concede ad atlanta così chiudiamo subito la partita vai dario difesa di chicago comunque discretamente buona però 4 grigio 2 rosa e concede altri 12 punti quindi siamo meno uno a meno uno a 26 andiamo a vedere l'attacco di chicago come si muove fai pure 6 6 sì vabbè saremmo in negativo avrebbe finito meno 3 avrebbe finito quindi diamogli un bello 0 shootout da parte della difesa di atlanta atlanta vince 26 a 0 e vince la sua prima partita quindi niente tank for travel anche perché comunque matt ryan il suo quarterback è ancora relativamente giovane chicago non parte assolutamente con la sfilza di vittorie che fece storicamente lo scorso anno è già 1-2 che tutto sommato è forse come si merita quella squadra continuiamo los angeles rams contro buffalo bills e questa volta non ha giocato il nostro amico ettore lo bue quindi la simuliamo noi parità molto tirata parità molto imponente poi fermo restando che se ettore compare dicendo l'ho giocata accetteremo ovviamente la sua la sua soluzione ma andando vediamo come va magari ettore perde qua vince chi lo sa andiamo pure dario tira dimmi mi sono accolto di una cosa cosa la squadra dei bills vi ha fatto venire in mente i boss di super barrio che si chiama pallotolo bills pallotolo bill esattamente bill è anche un nome in generale ma la squadra di buffalo si chiama i bills perché vuole richiamare ovviamente il famoso personaggio storico di buffalo bill quanto è uscito? 1 oro grigio o 4 oro rosa benissimo io torno a vedere prima i los angeles rams i los angeles rams con un 1 grigio e 4 rosa fanno meno oggi difese fantastiche i los angeles rams hanno un bel meno 7 quindi si parte da 4 punti soltanto per i los angeles rams vediamo buffalo invece se riesce a mettere in piedi un po' di roba in attacco 6 grigio 2 rosa 6 grigio 2 rosa e anche qui meno 5 rispetto alla media buffalo comunque ha un 19 un attacco pazzesco grato da josh allen il giovane quarterback che l'anno scorso mi ha fatto vincere il fantasy football e che anche quest'anno infatti ho ricomprato in un po' di fantasy buffalo il primo tempo chiude in vantaggio per 14 a 4 so che è un punteggio impossibile nella nfl ma adesso per l'appunto lo sistemiamo un attimo vedendo le difese come operano andiamo a vedere la difesa di buffalo stavolta per dare un po' più di emozione quanto concede ai rams 3 rosa 4 grigio allora average quindi buffalo comunque è una difesa molto forte solo 10 punti per i rams siamo su 14 pari vediamo se si va all'overtime oppure se la difesa dei rams qualcosina concede a buffalo vai pure col tiro i rams hanno una difesa pazzesca la migliore del giochino 3 rosa e però questa volta si pigliano 14 punti e quindi la parita finisce per il buffalo che in casa vince 28 a 14 e porterà una serie di distruzione di tavoli come non si è mai visto ricordo che i tifosi di buffalo beers hanno come caratteristica proprio quella di buttarsi sui tavoli da campeggio a piedi pari distruggendoli è il loro modo di festeggiare buffalo si porta sul 2 a 1 dopo la prima giornata in cui hanno perso a sorpresa con i jets adesso buffalo si sta muovendo per essere la squadra da battere del afc east los angeles rams prima sconfitta 2 a 1 anche per loro due vinto una persa washington a cleveland e qui la partita è stata già giocata a casa dal nostro amico flavio ceccanti andiamo a recuperarlo cleveland ha vinto il 17 quello che è online ora ha vinto 17 a 16 parita che deve essere stata molto molto tirata e che anche qui si è conclusa con una serie di nomi cleveland ha prima vittoria per cleveland una vinta e due perse anche washington ha una vinta e due perse e insomma la situazione non è particolarmente allegra continuiamo con la nostra simulazione i titans dai vikings parita molto interessante anche perché i titans sono una squadra che infatti è ancora 2-0 minnesotra in compenso è 0-2 quindi forse una parita più che interessante sembra già segnata ma vediamo che succede andiamo con tennessee e il suo attacco guidato da derrick henry running back fortissimo che sta sfondando anche i dadi come sentite e ha distrutto tutto quanto derrick henry quando si tritono i dadi è perché cadono perché per il resto li lanciamo dentro la torre di dadi di mario aceto che ogni tanto fotografiamo targata petrol e non si sente assolutamente nulla ecco i tennessee titans giusto per far capire dove infatti flavio ci conferma la sua parita sta attiratissima comunque tennessee contro minnesota mi dispiace per l'amico marco campari grande game designer grande e appassionato giocatore di tutti i fantasy perché li fa tutti oltre che essere un grande game designer di world game minnesota parte subendo 30 punti dai tennessee titans vediamo se l'attacco di minnesota reagisce in qualche maniera ma manco dipinto 3 sotto la media quindi minnesota ne fa solo 12 vediamo se le difese fanno qualcosa vediamo se le difese fanno qualcosa andiamo con la difesa finiamo la difesa di minnesota dai così finiamo di vedere quello che succede vai dario vediamo se tennessee riesce a fare altri punti temo di sì guardate 9 sopra la media altri 27 punti cioè tennessee fa 57 punti e 57 punti vediamo tennessee quanto concede penso molto poco tira daio per favore papà in questo gioco il 6 fa schifo il 6 no se fai 6 e 4 no anche 6 e 3 il 6 fa schifo se è estremistico se è 6 e 6 sì esatto no 1-1 è meglio se è 1-6 eccetera comunque cosa è uscito che andiamo a vedere 6-2-6-5 ecco questo possiamo dire che fa schifo perché sono 10 punti sotto già i pochi che tennessee concede quindi ne concede solamente 4 finisce la parita 57 a 16 lezione di football completa per quanto riguarda minnesota tennessee continua a essere una delle squadre favorite per la vittoria quanto meno l'ivs south anche se anche indianapolis si mantiene per ora imbattuta ma deve ancora giocare tennessee 3-0 minnesota 0-3 passiamo a raiders contro i patriots e anche questa è stata simulata dal sottoscritto che ha il piacere di giocare con i patriots e di averli visti perdere 27 a 24 dopo che vincevano 14 a 0 quindi capite il mio entusiasmo l'unico entusiasmo che ormai mi è rimasto è di vedere Trevor Lawrence che fra poco giocherà con noi in magia e forse invece non succederà così perché jacksonville comunque si conferma anche lei 0-3 e non si sa mai e vediamo che succede continuiamo con le nostre simulazioni e abbiamo i 49ers di mario aceto che non so se ho già detto è quello che ci ha fatto la torre si l'ho già detto contro i new york giants anche qui anche qui due squadre due accedime nemiche due rivalità importanti anche se giocano in gironi opposti allora san francisco vai tiriamo san francisco 5 uguali quelli uguali a meno che non siano 1-1 6-6 sono sempre average quindi san francisco segna 12 punti quindi abbiamo uh c'è anche marino ciao marino grazie per essere qui con noi anche oggi stiamo andando nel simulare se benissimo marino manfroni che per noi segue invece i green bay packers che per sua fortuna è la nostra simulazione tanto nostalgica vanno molto meglio di come vanno nella realtà in questo momento ma non si sa mai giocano stanotte e gli auguriamo insomma che abbiano quello che si meritano andiamo con i new york giants e vediamo l'attacco dei giants come va prego dario l'attacco dei giants è terribile 3-2 4-10 lo dico sempre ma ogni volta mi sorprendo e infatti fanno con un attacco medio fanno 6 punti e quindi abbiamo già san francisco sopra 12-6 vediamo le difese ma anche qui non la vedo benissimo difesa dei giants vai dario 2-2 3-0 eh un po' stringono stringono le difese solo 8 punti san francisco si porta a 20 punti vediamo se san francisco concede qualcosa ai giants ma difesa segnata molto agli infortuni comunque vai pure dario vediamo san francisco dimmi dario si dimmi che mi ricordo ancora la puntata leggendaria che praticamente ce l'ho della chat praticamente tutti c'era c'era una puntata che c'era tanta gente in chat quando giocavamo baltimola contro new york quando facciamo new york contro casa city a sottolineo che stiamo per tornare a giocare new york contro kansas city in diretta con manuel al telefono come giocato l'altra volta anche se mentre l'anno scorso vincemmo miracolosamente la prima e poi perdemmo ai playoff quest'anno abbiamo la grande accoppiata la buonanotte mahomes contro hoyer che praticamente non so cosa possa dare invece possono dare moltissimo i giants che hanno un più 9 quindi segnano 15 punti ci potrebbe essere la sorpresa i giants vincono 21 a 20 contro san francisco dopo tutto quello che ho detto invece daniel jones noto per essere corso come un dannato tutto il campo e poi imbalzato come si dice a bologna lo scorso anno invece qui ce la fa brillantemente e signori per la gioia di flavio ceccanti i giants nel nostro campionato sono 3 0 che con washington assolutamente 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 sì sì i giants sono 3 0 ragazzi niente da dire cioè veramente una roba pazzesca ok continuiamo con i nostri sorteggi anche perché non so quanto mi dura la batteria perché oggi siamo in situazione un po' di emergenza e quindi non so quanto riusciamo a reggere Cincinnati Bengals che vanno a giocare contro i Philadelphia Eagles avevamo un giocatore di Philadelphia speriamo che torni Garoppolo se è venuto la partita mi dice io penso che Garoppolo si sia rotto in questa partita peggio uno dei tantissimi infortuni che i 49ers hanno avuto lo scorso anno mi sono già dimenticato di chi stiamo parlando Cincinnati Bengals contro Philadelphia Eagles a proposito di appunto infortuni vabbè Giobarro giocava ancora ma vediamo oggi come funziona iniziamo con i Cincinnati Bengals all'attacco vai Dario altra squadra con un punteggio assolutamente agghiacciante e che però oggi oggi con ancora Joe Burrow dietro il centro fanno un po' i fenomeni perché segnano già 9,7 16 punti 16 punti contro gli Eagles mi spiace sempre molto vedere gli Eagles che subiscono e andiamo a vedere Philadelphia come se e come risponde 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 rosso quindi anche loro un bella risposta siamo 16 a 14 per Cincinnati e andiamo a vedere le difese vediamo Cincinnati quanto concedono agli Eagles 2 grigio 5 rosso una bella media quindi Cincinnati concede 14 e gli Eagles si portano sul 28 a 16 ma adesso vediamo se Joe Burrow tira fuori dal cilindro qualcosa che lo rende infermabile dagli Eagles che hanno una difesa non eccezionale ma neanche terribile tira Dario vediamo cosa fanno gli Eagles contro Burrow guardate niente 4 rosa 2 grigio eh ne subiscono uno in più Philadelphia subisce 15 punti e Cincinnati vince 31 a 28 31 ha venuto per Cincinnati si vede che qui Burrow è ancora in campo e si sente Cincinnati va 2 a 1 mentre gli Eagles scendono a 0-3 ecco qua e questo penso che a Flavio non dispiaccia più di tanto adesso poi vediamo come va Dallas Houston Texans contro Pittsburgh Steelers una squadra che è un'annata terrificante i Houston Texans nonostante le attese contro una squadra che invece potenzialmente poteva dare forse anche un po' di più anche lì storia di infortuni gravi nel nostro campionato sono entrambi una vinta una persa quindi abbiamo veramente una situazione di parità che oggi andiamo a districare vediamo l'attacco degli Houston Texans come si comportano ricordo sempre se i dadi sono vicini tra loro punteggio nella media se sono distanti cambia molto vai Dario perfetto esattamente come in questo caso grossa differenza fra i dadi Houston segna 7 punti in meno ne segna solamente 5 vediamo Pittsburgh come si comporta vai Dario dopo leggiamo cosa ha detto Flavio è importante è importantissimo ma doppio 5 avete già imparato average quindi Pittsburgh l'attacco medio di Pittsburgh è 14 punti e siamo 14 a 5 vai facciamo asfaltare Dallas ci siamo e infatti per l'appunto come dice Flavio raggiunge i Giants a 3-0 si fermeranno come poi effettivamente vediamo la difesa di Pittsburgh quanto concede a Houston se riescono almeno a rimettere la faccia avanti vai Dario la difesa di Pittsburgh è smodata smodata però c'è una grande differenza sì però ancora peggio per quanto riguarda gli amici di Houston che addirittura devono mettere un meno 4 sul loro punteggio quindi sono a 1 1 lo trasformiamo in 3 per pietà perché 1 non esiste anzi lo mettiamo a 0 facciamo un bello shootout per Pittsburgh vediamo la difesa di Houston quanto concede a Pittsburgh vai Dario difesa di Houston terribile giusto i Petros dell'anno scorso potevano perderci con questi ma questo insomma con tutto l'amore per i tifosi di Houston tanto sono d'accordo con me immagino siamo 24-0 per i Pittsburgh Steelers i cattivi potrebbero dire che il quarterback fosse più impegnato a far vedere le sue parti intime in giro che a concentrarsi sulla partita in realtà chi ha seguito Houston l'anno scorso ha visto che il quarterback è stato l'ultimo dei suoi problemi è stato il primo dei suoi problemi poi nella off-season quando invece ha ricevuto veramente una serie di denunce per comportamenti non proprio limpidi dal punto di vista appunto sessuale Indianapolis Colts che ospitano i New York Jets anche qui una squadra New York Jets nel nostro fantasy che la prima ha vinto nel nostro fantasy nella nostra simulazione ha vinto a sorpresa su Buffalo ma poi è tornata nella sua mediocrità con cui passerà l'intera stagione contro Indianapolis Colts che se non sbaglio sono ancora a punteggio pieno infatti è così andiamo a vedere i Jets come attaccano i Jets hanno un attacco terrificante tre punti di media vediamo pure Sam Darnold cosa fa oggi e però grigio quindi un tiro estremo meno sette ecco partiamo con un meno sette per i Jets qua vedo un altro shootout che sta arrivando vediamo l'attacco di Indianapolis non eccezionale però insomma c'era Philip Rivers ecco c'era una serie di giocatori anche importanti 5 grigio 6 rosa esattamente uguale a prima anche per loro un meno dieci ma loro rimangono sopra siamo più sei a meno sette per quanto riguarda Indianapolis Colts andiamo a vedere la difesa di Indianapolis così vediamo subito sui Jets si fermano a zero difesa di Indianapolis molto forte rosa 6 grigio e però subiscono un sacco di punti qua 22 punti attenzione i Jets vanno davanti i Jets vanno davanti sono 15 a 6 e se la loro difesa riesce a fermare Indianapolis abbiamo un'altra sorpresa di giornata vai Dario vediamo i tiri vediamo i tiri 3-2-2 avete già imparato che comunque sia il tiro abbastanza medio quindi non c'è una gran differenza meno 3 i Jets subiscono 13 punti vincono Indianapolis Colts 19 a 15 con un po' di fiatone ma comunque vincono Indianapolis si porta sul 3-0 i Jets si portano sull'1-2 comunque davanti ai Patriots che con grande orgoglio loro un po' meno Carolina Panthers contro i Los Angeles Chargers Carolina Panthers contro i Los Angeles Chargers che già vedono dietro dietro la linea del centro dietro il centro vedono già Herbert a lanciare andiamo a vedere Carolina il suo attacco come si comporta guidato da Teddy Bridgewater già capite che c'è un estremismo meno 12 rispetto alla media Carolina parte con un meno 2 molto bene vediamo i Chargers come si comportano vai Dario allora i Chargers nella media solo un punto in meno attacco discretamente forte 11 punti siamo 11 a meno 2 e adesso entrano in gioco le difese vediamo i Chargers quanto concedono a Carolina Chargers difesa l'anno scorso che si è comprato meno bene di quello che poteva fare tutto sommato 5 grigio 3 rosa allora average meno 1 danno 13 punti e quindi vanno a 11 siamo 11 pari adesso se Carolina riuscisse a fermare i Chargers andremo anche all'overtime vediamo cosa fa la difesa di Carolina 11 pari e invece più 6 rispetto alla media 19 punti per i Chargers partita chiusa in carrozza 30 a 11 per i Los Angeles Chargers che si portano a questo punto sul 2 vinte e una persa mentre dall'altra parte Carolina Panthers che prima sconfitta per i Carolina Panthers anche loro 2 vinte e una persa continuiamo con i Detroit Lions contro gli Arizona Cardinals uno dei rari delle rare fiammate dei Lions dello scorso anno vediamo se anche noi lo replichiamo Detroit Lions guidati storicamente da un quarterback fortissimo come Matthew Stafford circolato da gente che è assolutamente pescata per strada o quasi con tutto il rispetto e che alla fine ha costretto il quarterback alla fine della scuola stagione a chiedere di trasferimento e infatti adesso si sta divertendo un sacco giocando i Los Angeles Rams ma non portiamoci avanti vediamo l'attacco di Detroit sotto Matthew Stafford come si comporta 3 rosa 4 nero 3 rosa 4 nero average 12 punti per Detroit vediamo Arizona con Kyler Murray un altro grandissimo giocatore da fantasy un quarterback che quando corre sembra che hai messo su la il fast forward nel video e vediamo Arizona come si comporta in attacco 6 rosa 2 malissimo fa solo 3 punti attenzione qua potrebbe scattare l'ennesima sorpresa Detroit in andaggio 12 a 3 e andiamo a vedere la difesa di Detroit quanto ferma Arizona vai Detroit difesa peggiore del campionato sopra media fra l'altro 22 punti subiti Arizona si porta sul 25 a 12 vediamo la difesa di Arizona quanto concede meno 1 concede solo 10 punti e finisce la parita tiratissima comunque 25 a 22 fra Arizona Cardinals e Detroit Lions quindi anche questa molto tirata come nella realtà anche se alla fine ha vinto la squadra che rimane 3-0 mentre i Lions rimangono 0-3 altra squadra che possiamo dire thank for Trevor thank for Trevor continuiamo dimmi Dario ancora nessuno che sta a 4 punti eh no sono 3 giornate se fosse uno a 4 punti sarebbe preoccupante è la terza giornata Tampa Bay Buccaneers contro i Denver Broncos attenzione tutti quelli che ascoltano sanno come è finito lo scorso campionato forse sarà una sorpresa scoprire che i Tampa Bay nel nostro campionato sono 0-2 e vediamo se adesso i Tampa Bay di Tom Brady se adesso contro abbiamo detto che giocano i Denver Broncos che l'anno scorso hanno fatto un campionato terrificante se finalmente riescono a mettere i primi la prima vittoria in stagione Tampa Bay anche lei con un attacco devastante prego Dario tira 2-0 che però si muove così così comunque quando Tampa Bay si muove così così segna 17 punti quindi Tampa Bay contro Denver 17 andiamo a vedere andiamo a vedere Denver come risponde vai Dario 3-2 3-2 4-0 3-2 3-2 4-0 average quindi 8 punti Denver altra squadra che l'anno scorso giusto col pezzo poteva vincere ma questi sono tristi ricordi del passato 17 a 8 per Tampa vediamo a difesa di Tampa si risveglia un attimo Denver prego Dario 2-0 6-0 si addio meno 11 già concede 10 Denver si ferma 7 punti al touchdown della bandiera vediamo a difesa di Denver come si comporta con Tampa vai pure 5-0 regala anche 5 punti in più 20 punti per Tampa la prima vittoria è di grande misura 37-7 per i Tampa Bay Buccaneers Tom Brady mi pare che diventi in questa partita il quarterback che ha vinto più partite in carriera perché storicamente l'avrebbe fatto la settimana prima vado a memoria Denver 3-0 anche lei thank you thank you thank you thank you thank you thank you ma Trevor Lawrence andrà una squadra sola Dario ha già tirato quella dopo adesso la leggiamo abbiamo gli amatissimi da Flavio Dallas Cowboys contro i Seattle Seahawks Dallas Cowboys che sono 1-1 contro Seattle Seahawks che come sempre fa degli inizi di campionato pazzeschi che infatti sono 2-0 abbiamo tirato per Dallas Dario quindi siamo abbastanza estremistici meno 6 per Dallas attacco forte ma che a un certo punto subisce l'infortunio gravissimo del quarterback che finisce la stagione Duck Prescott 7 punti in meno quindi 6 punti in meno Dallas segna solo 7 punti scriviamo Dallas contro sono già dimenticato contro chi giocava Seattle Seahawks giusto allora 7 punti per Dallas andiamo a vedere i Seahawks cosa ne pensano Dario dimmi pure quindi più 6 rispetto alla media 23 siamo 23 a 7 per i Seahawks andiamo a vedere la difesa di Seattle quanto concede a Dallas prego Dario la difesa di Seattle quanto che fece un inizio di campionato terrificante la difesa di Seattle poi si rimise si rimise in carreggiata da Average con 4 nero 1 rosa buonotte meno 9 quindi da solo 2 punti Dallas si ferma 9 per la gioia di Flavio Ceccanti andiamo a vedere quanto la difesa di Dallas concede a Seattle vai Dario 1 nero 4 rosa 1 nero 4 rosa meno 7 ha un po' stretto le linee ma sono altri 11 che vengono subiti finisce 34 a 9 la parita di Seattle contro Dallas di vario molto più ampio di quello che avvenne storicamente ma giocava ancora Prescott Seattle 3-0 Russell Wilson come ogni anno MVP almeno fino alla sesta giornata e poi vediamo se da noi continua o no comunque Flavio siete pari con Dallas 1 2 per entrambi continuiamo con i Green Bay Packers di Marino Manfroni che battono i New Orleans Sands in una parita tiratissima la già giocata 20 a 17 con un punteggio un pochino più ridotto rispetto a quello storico comunque sia Green Bay 3-0 New Orleans 2-1 quindi big match sicuramente di giornata giocato per appunto la domenica sera quando sono i partiti più importanti e infine il Monday Night Kansas City Chiefs contro Baltimore Ravens ricordo i Kansas City Chiefs sono 1-1 Baltimore 2-0 andiamo a vedere questo altro sconto epico non a caso il Monday Night e intanto Fabio festeggia insieme ai tifosi Seattle dichiarando ho sempre tifato per i falchi marini andiamo pure Kansas City attacco ciclonico con Mahomes vediamo cosa fanno siamo nella media quindi la media per Kansas City caccia 18 punti andiamo a vedere Baltimore come risponde 3-0-4 rosa anche qui piena media Baltimore 17 punti due attacchi pazzeschi grazie dal grande quarterback che si dica Patrick Mahomes e Lamar Jackson gente che vabbè nella nostra simulazione Lamar Jackson è fresco di MVP del campionato è MVP del Super Bowl avendolo vinto lui contro i 49ers ma è la nostra storia alternativa vediamo la difesa di Kansas se riesce a frenare Baltimore vai Dario 4-2-6-0 lo ferma molto bene perché gli concede solo altri 4 punti attenzione quindi Baltimore va a 21 ma adesso 21-18 vediamo la difesa di Baltimore che per il giochino è se non sbaglio la più forte di tutti esattamente difesa di Baltimore contro Kansas City 4-2-6-0 e avete capito già dai numeri vicini che è media però sono 6 punti per Kansas e Kansas va sopra 24-21 e Kansas vince questa partita e rimane 3-0 partita durissima grande spettacolo fra l'altro hanno giocato ieri notte anche quella partita con un grande spettacolo di cui non dirò com'è finito ma c'è Manuel che non l'ha presa benissimo comunque sia eccoci qua andiamo a leggere le classifiche nella AFC abbiamo ancora punteggio pieno nell'AFC South in cui ci sono addirittura due squadre punteggio pieno appena detto negli AFC North 3-0 Cincinnati di Joe Burrow 2-1 Cleveland 1-2 e perché hanno messo Pittsburgh non lo so Pittsburgh cosa ha fatto ha vinto 24-0 non hanno messo i punteggi di entrambi Pittsburgh comunque 2-1 che insegue i Baltimore Ravens e poi c'è l'AFC East che vede in testa Buffalo Bills e Miami Dolphins con 2-1 New York Jets con 1-2 e poi New England Petros con 0-3 l'AFC West vede in questo momento in testa nonostante la sconfitta i Los Angeles Chargers con 2-1 poi Kansas City e Las Vegas 1-2 Denver Broncos 0-3 nell'NFC abbiamo a punteggio pieno solamente due squadre no tre squadre anche qui come già Flavio sa molto bene NFC East con i New York Giants a 3-0 Daniel Jones evidentemente in forma da MVP anche lui Dallas Cowboys e Washington Redskins 1-2 Philadelphia Eagles 0-3 NFC North abbiamo Green Bay Packers di Marino Manfroni che risautiamo che deve essere ancora in linea con 3-0 e poi distaccatissimi tutti gli altri Chicago Bears 1-2 Minnesota Vikings e Detroit Lions 0-3 NFC North pare veramente una cavalcata solitaria per i Green Bay Packers NFC West con Seattle a punteggio pieno 3-0 con i Rams che inseguono Seattle e anche Arizona scusate con 3-0 poi Rams a 2-1 e San Francisco 49ers a 1-2 infortuni iniziano già a farsi sentire NFC South molto più equilibrata forse il giorno è più equilibrato di quelli che abbiamo in questo momento fra di noi perché abbiamo due squadre a 2-1 New Orleans Sands e Carolina Panthers e a 1-2 Tampa Bay Buccaneers e Atlanta Falcons questa è la situazione noi come sempre giocheremo le nostre partite tanto per dire come vi ho già anticipato prima fra poco risentiremo anche Manuel per giocare Kansas City Chiefs New England Patriots non so con le nuove carte e non so se vi ricordate come è andata ma ci fu Cam Newton che si prese il Covid rispetto a Cam Newton che sta giocando in questo campionato per me non so se questo dramma enorme giocò Hoyer come secondo quarterback la difesa di New England fu fortissima l'attacco fu imbarazzante e i Chiefs vinsero alla fine molto molto larghi ma con difficoltà andando avanti invece abbiamo il nostro Marino Manfroni che giocherà contro Atlanta Falcons parita teoricamente semplice ma l'Atlanta Falcons sarà sempre un attacco molto impegnativo e poi Flavio che è avantissimo sono già giocato con i Baltimore Ravens con i suoi Washington Redskins e poi ci dirà quello che è successo ma ribadisco sempre l'invito se qualcun altro vuole partecipare più siamo più ci divertiamo non costa niente si chiede un po' di tempo si conosce meglio il gioco si si diverte e insomma a noi ci piace così Marino c'è ancora e lo ringraziamo per i pollici up 1 2 ancora per poco ci dice Flavio vabbè ancora per poco per forza perché sarai 1 3 o 2 2 lo scopriremo sul gruppo Casus Belli Facebook ringrazio veramente di cuore chi è rimasto con noi continuo a sorprendermi del fatto che ci scegliete per farvi compagnia mi fa un piacere enorme e a presto sul gruppo Casus Belli Facebook Sport Games vi scriveremo si ma finiamo prima non ti preoccupare abbiamo solo 4 minuti poi ci tolgono la linea ma finisce prima intanto abbiamo visto con amore che la batteria tiene e già questo è importante sul gruppo Casus Belli Sport Games di Facebook scoprirete a breve grazie a voi grazie a Flavio ma perché è buono lo paghiamo grazie a Flavio veramente di cuore a te scoprirete quando giocheremo Kansas City Chiefs New England Petros penso che faremo solo una diretta perché ci saranno i Chiefs sopra 22 a 0 e quindi ci fermeremo lì e poi finiremo di simularla per i fatti nostri ma comunque vi aspettiamo per stare un po' di tempi insieme in allegria salutiamo con la nostra solita sigla ciao a tutti ciao ciao a tutti e grazie ancora per essere rimasti con noi a presto un po' di tempi un po' di tempi un po' di tempi Grazie a tutti. Grazie a tutti.